Askeri Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e le earning di qualità. Da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.askeri.academy. Buon ascolto. Buonasera di nuovo. Il modulo di oggi riguarderà la revisione contabile nel Regno Unito. Ora, essendo l'Inghilterra ancora, almeno fino alla fine del mese, fino alle 11 del 31 dicembre ed essendo comunque stata per più di 40 anni un paese membro dell'Unione Europea gran parte della legislazione che disciplina questa materia è di derivazione europea quindi è stata inserita all'interno della legislazione UK così come hanno fatto tutti gli altri paesi membri. Necessariamente quindi dovrò trattare argomenti relative a revisione che già ben conoscete perché appunto disposizioni similari sono all'interno della normativa italiana ma ci concentreremo comunque su particolari disposizioni adesso vi faccio vedere anche l'indice insomma su disposizioni che riguardano i revisori e le società di revisione di limited companies nel Regno Unito con particolare attenzione a quelle che sono le regole previste in caso di nomina, dimissioni o destituzione del revisore nonché quelli che sono gli organi di regolatori competenti sul territorio quindi nel Regno Unito. Partiamo dicendo che la responsabilità per tutte le questioni relative al regolamento di audit è riservata ad un'autorità che nel Regno Unito è il Financial Reporting Council, FRC mentre in Irlanda è l'autorità irlandese di controllo contabile, IASA. ovviamente la normativa, la direttiva UE consente alle autorità competenti dello Stato membro di delegare alcune di queste funzioni a organismi riconosciuti dalla legge che in Inghilterra sono i Recognized Supervisory Buddies, RSB, che poi non sono nient'altro che gli ordini professionali e poi li vedremo quali sono e invece in Irlanda sono gli RAB, quindi sembrano organismi di contabilità riconosciuti. Ora la direttiva europea però è stata implementata in modo leggermente diverso nel Regno Unito e in Irlanda nel senso che nel Regno Unito tutti i poteri sono stati accentrati e conferiti al Financial Reporting Council il quale poi a sua discrezione delega parte di queste competenze e delega ovviamente anche parte dei suoi poteri agli ordini professionali. Mentre in Irlanda sono già stati suddivisi i compiti tra quelli che sono le autorità competenti e gli organismi contabili riconosciuti, quindi gli ordini professionali. In entrambi i casi comunque oltre alla responsabilità della supervisione le autorità competenti sono responsabili del monitoraggio delle indagini ed eventuali sanzioni per il lavoro svolto, quindi dagli auditors e dagli altri clienti di interesse pubblico. Poi nel corso del modulo, nelle slide successive, vedremo come effettivamente lavorano a stretto contatto sul territorio gli ordini professionali. Allora perché è importante la revisione? La revisione è importante sostanzialmente sotto due aspetti. Il primo è perché il controllo che il revisore fa sul bilancio, sui documenti che ispeziona e verifica è importante per tutta una serie di soggetti che gravitano intorno alla società per verificare quindi un controllo su quella che è l'attività degli amministratori e allo stesso tempo rendere responsabili di eventuali errori o irregolarità che si potrebbero riscontrare. Quindi l'importanza di una relazione che attesta la veridicità e la correttezza del bilancio e la sua adelenza a quelli che sono i principi contabili è importante quindi non soltanto per gli azionisti, i soci quindi che hanno in questo modo hanno una visione diciamo più completa e retta e veritiera della situazione effettiva aziendale confermata quindi dal revisore ma anche per tutta una serie di soggetti quali ad esempio banche, fornitori che gravitano intorno all'azienda e che hanno bisogno quindi di poter diciamo così poter contare sulla relazione del revisore per prendere decisioni, quindi concedere altri prestiti, aprire linee di credito eccetera. Abbiamo parlato nel modulo scorso, quello di giovedì scorso, dei criteri dimensionali, quindi le tipologie di azienda e i criteri dimensionali per poter essere considerate imprese di piccole dimensioni. Abbiamo detto che le imprese di piccole dimensioni ma poi lo rivedremo nelle slide successive hanno caratteristiche tali per cui vengono loro riconosciuta innanzitutto la possibilità di presentare dei bilanci diciamo in forma abbreviata ma anche la audit exemption, quindi non sono per legge tenute a essere soggette a revisione legale. Però questo non esclude che qualora gli azionisti, i soci, volessero comunque che la società venga sottoposta a questo tipo di controllo potrebbero prevedere nello statuto una clausola apposita e quindi in questo caso anche se la società fosse di piccole dimensioni quindi non soggetta per legge alla revisione potrebbe comunque essere obbligata a farla proprio perché è previsto nello statuto o ancora qualora uno o più membri ma tanti da rappresentare almeno il 10% del valore nominale del capitale sociale potrebbero richiedere che la società venga sottoposta a revisione, in questo caso anche qui diventerebbe obbligatorio l'ambito della revisione, questi sono elementi che già conoscete, quelli sono i tre aspetti che coinvolge l'audit sono la valutazione sostanziale del rischio, quindi il revisore deve acquisire una conoscenza approfondita dell'attività aziendale deve raccogliere il materiale necessario per poter fare le sue valutazioni e in particolare perché gli consentono di valutare il rischio che il bilancio nel suo complesso possa presentare errori significativi raccolto ovviamente di prove necessarie alla valutazione del rischio, quindi per supportare questo lui deve avere degli elementi probatori sufficienti quindi appropriati per valutare il livello di rischio o per ridurre il livello di rischio a un livello accettabile e trarre quindi conclusioni su cui basare il proprio giudizio perché potrebbe magari raccogliere evidenze per cui se ci fossero degli errori la probabilità sarebbe comunque molto basta che siano errori significativi e poi esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio e questo è poi lo scopo ultimo della sua attività cioè quello di redigere questa relazione nel quale dovrà esprimere il risultato dei suoi controlli, della sua analisi ovviamente l'attività del revisore non è semplice, deve avere una capacità quindi di identificare e valutare questi rischi in modo corretto parte di questa capacità nasce e si forma durante gli anni di studi, di formazione accademica ma parte di questa invece si fonda proprio sulla formazione e esperienza professionale il ruolo fondamentale è svolto dall'autorità competente nel Regno Unito e poi in primis dagli ordini professionali che appunto approvano, nominano, regolano l'attività del revisore e rimangono anche se vogliamo un punto fermo al quale il revisore, il professionista può rivolgersi in caso abbia dei dubbi o non sappia come muoversi in una particolare circostanza, una particolare difficoltà La finalità della revisione è quella appunto di accrescere come abbiamo detto la fiducia di tutti gli utilizzatori quindi la fiducia degli azionisti nei confronti ovviamente del management la fiducia quindi dei soggetti che potrebbero essere banche o creditori e in particolare la fiducia che il bilancio non sia stato inficiato da errori significativi dovuti a frodi, ecco questa è la situazione più grave, frodi è una parola che comprende tante cose quindi intende anche riciclaggio di denaro, intende anche peculato, insomma è molto ampia e quindi il giudizio del revisore è molto importante, un giudizio negativo potrebbe pesare in modo molto forte sull'azienda e su tutto il suo entourage Ovviamente lo scopo della revisione è quello di assicurare che la contabilità aziendale sia in regola con le normative vigenti, quindi una compliance audit e individuare possibili tracce di errori ma anche attività illegali o frodi È chiaro che il revisore non entra mai nel merito di come viene condotto il business quindi nel merito delle scelte di business che invece comportano semplicemente agli amministratori il suo deve essere un controllo esclusivamente basato sui documenti contabili sulla documentazione raccolta e che valuta effettivamente ed esclusivamente la congruenza del bilancio con quello che poi sono anche le relazioni predisposte dagli amministratori ma poi lo vedremo nelle slide successive e che sia conforme alle norme che disciplinano e che sia effettivamente veritiero con rispetto alla situazione reale patrimoniale e finanziaria dell'azienda Allora, vediamo il quadro legislativo Allora, ovviamente il quadro legislativo sono in gran parte il regolamento europeo quindi il regolamento di audit che sono poi entrati, stati inseriti automaticamente nella legislazione UK in materia di revisione contabile e poi invece il Companies Act 2006 che stabilisce i requisiti degli organi di vigilanza riconosciuti e i requisiti per gli ordini professionali qualificati Abbiamo detto che l'ordine di vigilanza e l'autorità competente sul territorio britannico è il Financial Reporting Council che ha la responsabilità ultima per l'esecuzione e la supervisione del regolamento di audit e però anche se questa autorità che quindi ha centrato tutti questi poteri abbiamo detto delega parte di queste responsabilità agli ordini professionali Cosa è composto? Come è composto il Financial Reporting Council? Allora è supportato da tre comitati di governance che sono il comitato per il controllo comitato per le nomine e comitato per la remunerazione e poi da due comitati aziendali che sono il comitato per i codici gli standard e il comitato per la condotta L'Audit Insurance Council quindi il comitato per il controllo che è poi supportato dal team Audit Insurance e responsabile proprio per lo sviluppo degli International Standard on Auditing quindi nel Regno Unito e in Irlanda e le regole di pratica quindi associate ai standard etici per i revisori i charter account del Regno Unito tra l'altro ciascun ordine professionale mette a disposizione dei loro iscritti questi codici di etica professionale quindi sia per quanto riguarda la revisione sia per quanto riguarda i charter account e poi fornisce anche input a quello che è lo IASB sullo sviluppo degli standard internazionali di audit e lo IESBA sullo sviluppo del codice etico e controllo degli auditors Allora abbiamo detto e qui siamo arrivati a quelli che sono gli ordini professionali ai quali l'FRC può delegare determinate responsabilità e può affidare alcuni dei suoi poteri in particolare gli ordini professionali sono responsabili quindi per la preparazione accademica la nomina, il training professionale quindi la formazione continua dei charter accountants e degli auditor questi ordini professionali li ho elencati di sotto sono questi sei l'Association of Chartered Accountants Certified Accountants ICCA i dottori commercialisti Landa, CAI Chartered Institute of Management Accountant Chartered Institute of Public Finance and Accountancy l'Institute of Chartered Accountant in England e Walsh che è forse uno dei più grandi Institute of Chartered Accountant Quali sono i compiti di questi di questi ordini professionali? Devono assicurarsi che i revisori contabili mantengano standard elevati di professionalità abbiamo parlato infatti di formazione professionale continua quindi devono verificare che i loro iscritti quindi seguono i corsi quindi effettuino corsi di aggiornamento professionali così come richiesto dalla pratica prevede anche un report che viene presentato annualmente da ciascun revisore ma anche da ciascun commercialista che riepiloga sostanzialmente quelle che sono state le attività svolte nell'anno o quali sono state diciamo le challenges professionali più importanti e eventuali situazioni che si sono verificate o difficoltà riscontrate devono anche assicurarsi di mantenere elevata la reputazione dei revisori legali l'applicazione della normativa venga in forma corretta ma ferma e le regole della revisione siano chiare quindi i regolamenti devono essere applicati a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione perché abbiamo detto che ovviamente ci sono imprese obbligate per legge a sottoporsi a revisore legale queste generalmente sono di medie e grandi dimensioni ma qualora la piccola impresa decidesse spontaneamente di sottoporsi a revisore dovrà comunque sottostare le stesse normative previste per qualunque altra tipologia di impresa inoltre devono monitorare lo svolgimento del lavoro di audit indacare su possibili violazioni di tali regolamenti e disciplinare e sanzionare le violazioni di queste norme perché venisse riscontrato una società che il revisore stia agendo commettendo insomma la sua attività in modo scorretto o ci fossero delle irregolarità da segnalare queste verrebbero segnalate proprio agli ordini professionali i quali sono ovviamente poi obbligati a intervenire e sanzionare laddove riscontrassero delle gravi irregolarità tutti gli ordini professionali devono mantenere un registro delle persone delle società idonee quindi a essere nominate revisori quindi a svolgere l'attività di revisore questi registri devono contenere tutte le informazioni quindi tutti i dati sia relativamente se si tratta di persone fisiche quindi al soggetto all'auditor nel caso di società di revisione devono indicare anche tutti i dati dei amministratori dei partner dei soci della società di revisore questi dati devono essere sempre aggiornati quindi responsabilità ovviamente l'auditor della società di revisione in primis informare l'ordine professionale se è intervenuto un cambiamento e l'ordine professionale una volta ricevuta questa informazione entro dieci giorni deve effettuare queste variazioni sul registro allora requisiti per ricoprire la carica di auditor nel Regno Unito allora existono diciamo diversi modi per qualificarsi partiamo nel caso in cui appunto il soggetto quindi parta dalla quindi inizia la sua qualifica nel Regno Unito può farlo sostanzialmente in due modi o attraverso un programma di formazione post laurea quindi dopo aver conseguito una laurea in contabilità o in economia e lo può fare con un Master of Professional Accounting oppure può partecipare ad un programma di Certified Practicing Accountant CPA per ottenere il titolo di revisore qualificato inoltre per poter ottenere questo titolo è necessario per i candidati sottoporsi a una una pratica quindi un servizio per tre anni in un team di revisione contabile e completare almeno 120 ore di formazione fornito dal National Audit Office e poi ovviamente l'auditor al di là delle capacità accademiche deve avere anche grandi ottime capacità matematiche informatiche una buona capacità di comunicazione quindi insomma sono molti gli elementi che deve avere l'auditor per poter compiere il suo lavoro al meglio questo è un altro tema molto molto sentito cioè il riconoscimento dei titoli professionali proprio perché siamo un po' agli sgoccioli della situazione allora il regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali dell'Unione Europea prevedeva che prevede che gli stati membri tengano conto delle qualifiche ottenute in un altro stato sempre membro dell'Unione Europea quando concedono l'accesso all'esercizio di una professione regolamentata sul loro territorio ora questo sostanzialmente regime cosa consente consente a un professionista che ha un titolo all'interno di uno dei paesi dell'Unione Europea di che venga riconosciuta nell'altro paese europeo sostenendo semplicemente un test attitudinale o un periodo di adattamento anziché procedure di piena riqualificazione ora in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ci si aspetta comunque cambiamenti è possibile che la normativa subisca delle variazioni che in futuro quindi i professionisti europei che vogliano svolgere l'attività di commercialisti o di revisori nel Regno Unito siano tenuti a intraprendere un nuovo processo di qualificazione professionale e il conseguente requisito di pratica e superamento di esami però ovviamente sono tutte supposizioni al momento allora veniamo alla scelta del revisore contabile allora primariamente il revisore contabile però questa è la normativa appunto dell'Unione Europea quindi comune a tutti i paesi europei deve essere indipendente dalla società che deve sottoporre a revisione legale quindi non può essere nominato revisore un funzionario indipendente della società o che deve sottoporre la revisione o di una società collegata quella qui insomma inutile ve la faccio corta quindi deve essere sostanzialmente un soggetto che non ha legami né direttamente né indirettamente con la società che deve sottoporre a revisione quindi non può essere neanche un partner di una società collegata a quella a cui deve prestare revisione generalmente il primo amministratore è nominato scusate il primo revisore è nominato dagli amministratori e questo perché gli amministratori sono generalmente i primi a rendersi conto che la società ha magari superato determinati parametri dimensionali e quindi sia necessario sottoporsi a revisione quindi nominare un revisore successivamente quindi gli anni successivi al primo sono gli azionisti che in sede di assemblea generale nomineranno quindi o riconfermeranno quello già presente in carica che è poi l'assemblea generale quella in cui viene sostanzialmente mostrato quindi proposto il bilancio ai soci nel caso invece delle private limited companies dove sappiamo che i sensi del companies act non è obbligatorio la tenuta di un'assemblea generale annuale quindi l'IGM può essere fatto tramite risoluzione scritta quindi semplicemente fatta passare tra i soci ma questo l'abbiamo visto nel modulo precedente credo fosse il terzo o il quarto riporto di nuovo per completezza dei criteri dimensionali per poter essere considerata una società di piccole dimensioni quindi non si devono superare due delle soglie che rivedete riportate in tabella inoltre la società deve essere o comunque essere stata di piccole dimensioni durante uno o più dei seguenti esercizi finanziari cioè se siamo per esempio al primo anno fiscale ovviamente in quell'anno se invece siamo gli anni fiscali successivi al primo allora deve essere stata di piccole dimensioni nell'anno attuale quindi quello che dobbiamo analizzare e quello precedente quindi non è soltanto relativo all'unico periodo quindi se una società per esempio fosse sempre stata di grandi dimensioni e poi nell'ultimo anno di piccole dimensioni sarà comunque soggetta a audit per quell'anno salvo poi nell'anno successivo confermare le piccole dimensioni e quindi poter gli amministratori potranno così dichiarare che non c'è più bisogno di sottoporsi alla revisione legale fanno eccezione a queste regole legate alle dimensioni fanno sempre eccezione quindi sono sempre soggette a audit le società pubbliche società di assicurazioni società bancaria società di investimento e società quotate quindi queste società saranno sempre comunque soggette a revisione contabile allora esenzione la revisione ovviamente abbiamo già anticipato prima che è diritto degli azionisti quindi richiedere la revisione qualora questa richiesta venga presentata da almeno il 10% del capitale sociale avendo diritto di voto in questo caso i soci ci devono notificare la richiesta presso la sede legale della società e almeno un mese prima della fine dell'esercizio finanziario in corso e in questo caso anche se la società fosse di piccole dimensioni lo fosse stato anche l'anno precedente quindi non fosse obbligata per legge a sottoporsi a audit lo dovrà comunque essere perché è stato richiesto con queste modalità le società invece che sono obbligate per legge a essere sottoposte a audit e non nominano un auditor possono incorrere in sanzioni pecuniarie sia nei confronti della società che dei loro amministratori quali semplicemente mi ripeto quindi chi sono comunque sempre obbligate alla revisione contabile sono le società pubbliche le società controllate che fanno parte di un gruppo di grandi dimensioni ecco questo non lo dimentichiamo assicurazioni banche società di investimento società quotate e poi ovviamente società non di piccole dimensioni allora abbiamo detto che il primo sindaco reviso viene nominato dagli amministratori e questo rimane sostanzialmente in carica fino alla convocazione dell'assemblea generale annuale durante la quale viene sottoposto agli azionisti di bilancio e viene loro chiesto di riconfermare l'attuale amministratore oppure nominarne uno nuovo la convocazione dell'assemblea generale per la nomina del revisore deve avvenire entro 28 giorni dalla scadenza della data di presentazione del bilancio a company house nel caso del limited company invece viene semplicemente fatta passare tra i soci una risoluzione scritta nel quale appunto sono evidenziati questi elementi e i soci semplicemente gli azionisti firmandola dando il loro consenso alla ricandidatura quindi alla conferma della carica dell'amministratore scusate del revisore se una società privata viene richiesto di sottoporsi al revisore e non nomina un revisore questo verrà nominato dal segretario di stato ora vediamo quali sono gli step sostanzialmente in il primo anno sono gli amministratori che sono tenuti a nominare il revisore nel caso in cui questi mancassero di nominarlo e potere degli azionisti nominare il revisore in mancanza di azione sia degli amministratori che dei revisori la società dovrebbe quindi inviare un'informazione quindi apposita comunicazione alla segreteria di stato la quale entro e non oltre sette giorni dalla scadenza del periodo per la nomina dei revisori dovrebbe provvedere a nominarne uno nel caso in cui ci sia totale anche azione da parte della società stessa quindi lì può nascere il problema perché potrebbe essere ci potrebbero essere ripercussioni in termini pecuniali quindi di multe e di sanzioni oltre che in termini di reputazione eventualmente se il revisore non viene nominato entro la fine del successivo periodo per la nomina del revisore allora il revisore precedentemente nominato si considera automaticamente riconfermato quindi c'è un rollover a meno che la nomina fosse stata fatta dagli amministratori quindi in questo caso non è possibile un rollover se non c'è l'approvazione dei soci lo statuto societario non preveda esplicitamente un nuovo processo per la conferma dell'incarico oppure la conferma del mandato del revisore fosse contestata dai soci in applicazione della sezione 488 del company act 2006 che vediamo tra qualche istante oppure gli amministratori avessero deliberato che nessun revisore debba essere nominato per l'anno finanziario in questione perché esempio la società per due anni consecutivi si è classificata come di piccole dimensioni quindi la revisione non è più obbligatoria e gli amministratori deliberano che non verrà nominato alcun amministratore allora che cos'è questa sezione 488 del company act sostanzialmente prevede che soci che detengono complessivamente non meno del 5% del capitale sociale avente diritto di voto possano contrastare la conferma della nomina del revisore gli azionisti in questo caso devono dare alla società un preavviso di 28 giorni della loro intenzione di proporre una risoluzione per non riconfermare il revisore in carica ovviamente durante l'assemblea generale e copia dell'avviso deve essere anche inviata al revisore che ha la facoltà di predisporre preparare una relazione una memoria scritta difensiva e chiederne l'invio agli azionisti della società sebbene una società possa revocare un revisore dall'incarico in qualsiasi momento comunque il revisore potrebbe aver diritto a un risarcimento danni o comunque un compenso diciamo compensativo se la società avesse violato quindi il contratto sottoscritto con il revisore stesso quindi in questo caso sarebbe soggetto ad un risarcimento potrebbe comunque rimuoverlo ma aspetterebbe al revisore un risarcimento se il revisore cessa per qualunque motivo invece dalla carica in questo caso si parla di dimissioni deve depositare una motivazione una relazione motivata insomma della sua dimissione presso la sede della società e questa dichiarazione deve indicare quindi quali sono le circostanze connesse alla sua cessazione che possono essere o perché sono state rilevate delle situazioni che vorrebbero portare a conoscenza dei soci e dei creditori della società ovviamente situazioni si parla di situazioni negative insomma che possono anche avere profili penali e oppure semplicemente per ragioni quindi legate al revisore quindi ragioni personali o altri tipi di ragioni che non necessariamente quindi sono o si prospettano situazioni penali e quelle all'orizzonte se si verificano tali circostanze la società deve inviare una copia di tale dichiarazione quindi nel caso in cui ci siano effettivamente dei profili delle situazioni che devono essere messe a conoscenza dei soci e dei creditori della società e questa dichiarazione deve essere fornita a tutti gli azionisti poi il revisore entro 14 giorni deve inviare questa copia di questa dichiarazione a company house affinché venga inserita nel pubblico registro allora diritti dei revisori revocati o non riconfermati quando viene proposta nel corso di un'assemblea generale quindi o mediante special written resolution attenzione si parla di special written resolution non di ordinary resolution più o meno andate a rivedervi i moduli precedenti nel quale appunto abbiamo parlato della differenza tra special resolution e ordinary resolution e in particolare le special resolution abbiamo parlato del fatto che esiste uno special notice che deve essere dato quindi un preavviso speciale di 28 giorni nel caso in cui debba essere valutata in assemblea una risoluzione speciale quindi per la revoca è proprio necessaria una risoluzione speciale la revoca quindi prima della scadenza del mandato ovviamente e anche per nominare un suo un suo un revisore in sostituzione ecco e occorre rispettare i seguenti i seguenti step i seguenti passi allora copia dell'avviso speciale e della delibera in forma scritta devono essere inviati il prima possibile dalla società ai soggetti interessati il revisore che si vuole revocare può entro 14 giorni presentare una dichiarazione scritta quindi una dichiarazione difensiva alla società e richiedere che venga inviata ai soci la società deve rispettare tale richiesta e se è troppo tardi per inviare la dichiarazione insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea allora occorre che la invii separatamente a tutti i soci o comunque in generale tutti i soggetti che hanno diritto di partecipare all'assemblea se non è possibile inviare tale dichiarazione con un preavviso adeguato allora il revisore può chiedere che questa venga letta nel corso dell'assemblea ovviamente il revisore ha diritto riceve anche egli l'avviso di convocazione dell'assemblea ha diritto a partecipare all'assemblea e a intervenire dimissioni del revisore allora il revisore che si dimette qualora ritenga appunto come abbiamo già anticipato nella serie precedente che vi siano delle questioni connesse alla sua cessazione che devono essere portate a conoscenza dei soci o dei creditori della società allora deve predisporre una dettagliata relazione che verrà poi resa pubblica questa relazione deve contenere tutta una serie di informazioni ovviamente oltre ai dettagli connesse alle dimissioni deve indicare il nome e i dati del revisore deve indicare il suo numero di registrazione e poi tutti i dati della società e il numero di registrazione della società stessa la società ovviamente presso il quale il revisore stava svolgendo la revisione legale la dichiarazione deve essere inviata poi ai soci insieme alla lettera di dimissioni non meno di 14 giorni prima della data prevista per la nomina di un nuovo revisore o comunque in qualunque altra circostanza non oltre 14 giorni dalla data di cessazione dall'incarico società di interesse pubblico allora queste sono diciamo una particolarità cioè prevedono la possibilità di un intervento da parte del tribunale in caso di rimozione dell'incarico del revisore quindi in questo caso è proprio una destituzione una rimozione dell'incarico del revisore può avvenire soltanto se sussistono validi motivi gravi motivi e generalmente sono tutti hanno tutti un profilo penale ecco sostanzialmente quindi grosse e gravi irregolarità da parte del revisore allora chi sono i soggetti che possono promuovere questa istanza al tribunale lo può fare l'autorità competente che quindi sovrintende la società di interesse pubblico lo possono fare gli azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto e presentando questa istanza al tribunale il tribunale dopo aver ascoltato le parti se è convinto che vi siano effettivamente validi motivi per rivuovere il revisore dall'incarico emetterà questo ordine di rimozione la nomina del revisore nelle public companies diciamo sostanzialmente ripercorre le stesse disposizioni previste per quanto riguarda le limited companies quindi le società pubbliche hanno e comunque nel caso delle private limited companies si parla di società di grandi dimensioni mentre le società pubbliche hanno sempre l'obbligo di nominare un revisore il primo anno finanziario viene nominato dagli amministratori quelli successivi invece dai soci nel caso in cui però gli amministratori non provvedero saranno i soci ad agire quindi per la nomina dell'amministratore generalmente la nomina o la riconferma dell'amministratore in corso avviene durante l'assemblea generale annuale e se la società manca di nominare un revisore lo sarà il segretario di stato ovviamente dovrà ricevere dalla società informazioni in questo senso tante volte capita spesso capita quando magari non si riesce a trovare un accordo sul soggetto da nominare gli amministratori non riescono a trovare una votazione a maggioranza lo stesso i soci in questo caso la scelta viene lasciata quindi viene richiesto al segretario di stato di intervenire dato che deve essere comunque nominato per legge un revisore e il segretario di stato provvede suo stesso alla nomina il revisore che è stato in carica precedentemente termina quindi il proprio mandato quindi con l'apertura dell'assemblea se poi viene riconfermato ovviamente c'è questo rollover diversamente il suo carico si considera terminato allora riprendiamo quando abbiamo parlato di dimissioni dall'incarico abbiamo detto che sono due documenti sostanzialmente che il revisore deve fornire il primo è ovviamente le lettere di dimissioni il secondo è una relazione che deve essere comunque dei prassi comunque fornirla però questa relazione può o affermare che non sussistono particolari circostanze per cui il il revisore ha dato le proprie dimissioni quindi magari sono circostanze più che altro legate alla sfera del revisore stesso oppure invece evidenziare circostanze poco chiare o gravi in cui gli azionisti creditori della società dovrebbero essere a conoscenza e generalmente in questo caso alla lettera quindi legata ai suoi dimissioni segue anche poi una comunicazione fatta al suo ordine e all'autorità competente in base al tipo di circostanza poco chiara o reato che abbia riscontrato la società deve inviare entro 14 giorni una copia della dichiarazione del revisore a tutti i soci e in generale a tutti coloro che hanno diritto di intervenire nelle assemblee generali e poi il revisore dovrà inviare una copia di tale dichiarazione anche a company house in determinate circostanze le aziende e il revisore potrebbero essere tenuti per legge e come ho detto informare anche le autorità di audit competente quindi se si prospettano profili di tipo penale questa è una particolarità nominagina partnership come revisore della partnership abbiamo parlato molto nel secondo modulo se non sbaglio ma la general partnership in Inghilterra e in Galles scusate le general partnership che sono incorporate in Inghilterra e Galles sono sostanzialmente delle associazioni che non posseggono quindi una personalità giuridica ma di fatto sono la responsabilità in capo ai soci quindi sono di fatti i soci che la rappresentano cosa succede nel caso in cui l'attività di revisione venga affidata a una general partnership quindi che è stata ovviamente che ha le caratteristiche per poter ricoprire la carica di revisione contabile tra l'altro l'avevamo anche detto nei moduli precedenti la partnership è molto utilizzata dalle associazioni professionali la general partnership prima dell'entrata in vigore della limited liability partnership era forse una delle forme più utilizzate dagli professionisti adesso invece è decisamente preferita la limited liability partnership comunque se una partnership venisse sciolta e fosse stato dato un incarico di revisione allora la nomina si intende automaticamente stesa a qualsiasi persona che succede a quella partnership sia i partner sostanzialmente che poi sono i titolari dell'incarico oppure qualsiasi partnership autorizzata a svolgere la revisione contabile che succede alla partnership che c'è stata cosa si intende per partnership in successione quindi successione di partnership si intende semplicemente che subentra un'altra partnership dove i partner sono sostanzialmente gli stessi e questa nuova partnership rileva l'intera attività della partnership precedente quindi l'elemento dei partners è fondamentale in una general partnership quindi la general partnership che ricopre la carica di revisore cessa non solo quando proprio c'è lo scioglimento ma anche quando c'è un cambiamento nei partner quindi se nella general partnership che ha un incarico di revisore subentra un partner o quindi ci sono delle variazioni o cambiano i partner automaticamente cessa l'incarico questo invece non succede per esempio nelle partnership di diritto scozzese che invece possiedono personalità giuridica e ovviamente non succede nelle limited liability partnership che possiedono anche se personalità giuridica compenso del revisore il compenso dei revisori e degli amministratori deve essere deve essere determinato dagli amministratori scusate il compenso del revisore è determinato di solito dagli amministratori può essere determinato dagli azionisti mediante votazione in sede di assemblea generale però nella pratica spesso i soci delegano agli amministratori la determinazione del compenso che cosa si intende per compenso cosa rientra nel compenso dell'amministratore oltre a eventuali spese deve essere riportato quindi il compenso degli amministratori nella nota integrativa deve essere evidenziato il bilancio e questo compenso non soltanto la parte diciamo così monetaria del compenso ma anche qualunque benefit sia stato riconosciuto al revisore quindi messo a disposizione auto piuttosto che computer piuttosto che telefonino insomma tutti gli elementi che possono essere considerati come dei benefit fanno parte della remunerazione del del revisore inoltre le società devono sempre dichiarare quanto sia stato corrisposto ai revisori e i loro collaboratori per servizi diversi da quelli di revisione che sono stati prestati alla società ovviamente società di piccole dimensioni che si volentariamente si sottopongono a revisione non sono tenute a evidenziare questa il compenso dei revisori nel bilancio quali sono i diritti del revisore con questo lo passerò magari siamo un po' a scarso di tempo ma comunque lo passerò un po' velocemente perché comunque sono i diritti e i doveri del revisore sono sostanzialmente previsti dalla normativa europea al revisore sono riconosciuti il diritto di accesso in qualunque momento ai libri societari ai bilanci ha diritto a partecipare alle assemblee generali e ricevere gli avvisi di convocazione e intervenire laddove ci siano elementi di discussione legati alla revisione stessa per quanto riguarda le società controllate può richiedere ai revisori di queste società di fornire tutta la documentazione di cui hanno bisogno e poi la cosa speculare e viceversa e questo anche nel caso in cui la società madre abbia una controllata che sia stata incorporata al di fuori del Regno Unito ovviamente costituisce reato quindi sanzionabile sia con pene pecuniarie che con l'incarcerazione se un funzionario della società o quindi un soggetto che fa parte della governance fornisce informazioni false o ingannevoli ai revisori ovviamente ben sapendo che queste informazioni sono false e ingannevoli doveri del revisore contabile ovviamente devono attenersi a una normativa che impone loro quindi di svolgere il lavoro con integrità devono essere e devono anche essere considerati indipendenti questo è molto importante rispettare gli standard di audit tenersi al codice etico previsto quindi dai loro ordini professionali assicurarsi che tutti i loro dipendenti dirigenti abbiano queste quindi siano idonei qualificate e comunque siano competenti per svolgere questo lavoro di audit e poi rispettare quindi che sono le procedure e le normative risposte predisposte dall'autorità competente obiettivo principale della revisione e abbiamo già detto quello di assicurarsi che il bilancio sia redatto in modo veritiero e corretto e si secondo quello che prevedono i principi contabili e che non sia che sia privo sostanzialmente di errori significativi magari dovuti a frode o altre gravi situazioni e poi al termine della loro revisione predisporre un giudizio nella loro relazione questo giudizio è importante che venga esercitato con scetticismo professionale quindi si intende proprio una mente indagatrice una mente che non dà nulla per scontato e che identifica e valuta i rischi anche di non riuscire magari a individuare errori che potrebbero poi rivelarsi particolarmente gravi o rilevanti nella visione complessiva del bilancio e quindi durante la loro attività di revisore importante è anche la comunicazione con i responsabili dell'attività di governance sia perché ci deve essere un buono scambio tra i due soggetti i revisori e il governance perché la governance deve mettersi a disposizione del revisore e dare loro accesso e fornire loro tutte le informazioni necessarie tant'è che anche nella relazione degli amministratori c'è una dichiarazione in cui gli amministratori appunto dichiarano di aver fornito di aver dato quanto è stato richiesto dai revisori e molte volte la mancanza di un buon rapporto di accesso a queste informazioni può determinare poi una relazione sfavorevole del revisore nel quale punto evidenzia che c'è stata questa difficoltà e questa ostruzione da parte della governance ma altro compito del revisore è quello di fornire alla governance stessa indicazioni laddove abbia riscontrato carenze significative nel controllo durante la sua attività di revisione in modo che la governance stessa possa provvedere e modificare la situazione in modo da sanare queste mancanze questo lo salterei allora dunque il il revisore deve verificare che le informazioni riportate nel bilancio sono affidabili e va bene ma per fare questo deve valutare se queste informazioni avrebbero dovuto essere incluse che tutte le informazioni che sarebbero dovute essere incluse sono presenti e sono adeguatamente classificate aggregate o disaggregate a seconda quindi poi anche che per esempio la presentazione la struttura il contenuto complessivo del bilancio siano corrispondenti quindi diano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale se il bilancio fornisce un'informazione adeguata quindi che consenta ai potenziali utilizzatori in questo caso soggetti terzi di comprendere l'effetto delle operazioni e degli eventi significativi generalmente la relazione del revisore segue un formato standard che è poi quello previsto dai principi di revisione quindi generalmente accettati gas ma che poi è anche previsto dalla normativa europea quindi molto simile in tutti i paesi che fa membri si compone sostanzialmente di tre paragrafi il primo stabilisce la responsabilità del revisore e degli amministratori il secondo paragrafo contiene quello che è lo scopo quindi ossia assicurarsi come abbiamo già detto e ridetto che il bilancio sia veritiero corretto e siano stati applicati i principi contabili che poi detto così sembra poco ma nella pratica in verità è un grosso lavoro e infine il terzo paragrafo contiene il giudizio del revisore ciò che rende la relazione di audit complicata da redigere molte volte è legata al fatto che le informazioni non sono immediatamente disponibili altre hanno una natura soggettiva quindi non è facile per il revisore riuscire ad avere una lettura di insieme di tutte queste informazioni tale da dargli una certa confidenza nel poter esprimere un giudizio sulla congruità e sulla veridicità del bilancio sulla non presenza di errori rilevanti o frodi eccetera quindi non è un compito semplice anche perché sa benissimo il revisore che un suo giudizio negativo può influenzare in modo molto forte l'azienda e la governance e anche tutto suo entourage quindi tutti i soggetti che in qualche modo gravitano intorno all'azienda e quindi precludere anche quella che è la sua reputazione quindi c'è c'è un peso notevole sulla sull'attività del revisore il revisore deve professionalmente essere molto attento nel valutare questa la presenza di questi errori o la presenza di situazioni più gravi da segnalare quindi quali sono i quattro tipi perché quattro sono sostanzialmente i tipi di pareri che il revisore può esprimere il primo è unqualified opinion clean report il secondo è il qualified opinion qualified report disclaimer opinion disclaimer report adverse opinion adverse report allora il primo come dice già la parola clean report vuol dire è un rapporto pulito privo di rilievi quindi sostanzialmente significa che il bilancio della società è privo di errore significativo e conforme ai principi contabili i revisori sono soddisfatti della rendicontazione finanziaria dell'azienda e quindi esprimono un giudizio positivo e generalmente la maggior parte degli audit si conclude così quindi siamo in zona verde tranquillamente passiamo invece a una zona diciamo gialla ecco per stare in tema con la situazione attuale di regioni rosse gialle verdi e allora la zona gialla è quando il il revisore esprime un giudizio positivo ma con delle eccezioni che può essere messo nel caso in cui vengono magari riscontrati degli errori ma comunque non rilevanti o se il revisore a volte non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti per su cui basare il giudizio però comunque la possibilità che ci siano degli errori sarebbe comunque probabile che questi non siano comunque rilevanti quindi ad esempio nel caso di errori di calcolo non corretta imputazione del costo nella voce di bilancio più idonea ecco quindi diciamo sostanzialmente non creano problemi nella visione complessiva e nella correttezza del bilancio ma viene comunque evidenziato che potrebbero esserci questi elementi disclaimer of opinion quindi quando un revisore esprime in questo caso un giudizio di riserva qui siamo già in zona decisamente arancione un po' rossina più arancione ancora però e significa quindi che sta insomma prendendo le distanze quindi non intende fornire un giudizio relativamente al bilancio sottoposto a revisione e sostanzialmente il revisore non è stato magari in grado di acquisire elementi probativi sufficienti su cui basare il suo giudizio o comunque i possibili effetti sul bilancio di eventuali errori potrebbero essere significativi e incisivi però non è in grado insomma di poterlo evidenziare con certezza questa tipo di attrazione potrebbe ad esempio aversi quando situazione che abbiamo anticipato prima cioè nel caso in cui il revisore non siano state fornite o non sia stato dato accesso a determinate informazioni finanziarie Adverso opinion Adverso audit report invece qui siamo in zona rossa rossissima quindi è un giudizio negativo che significa che il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e conclude che questi errori siano significativamente rilevanti e potrebbero avere addirittura rilievi diciamo di illeciti penali quindi in questo caso sarà necessario affrontare le dovute azioni quindi segnalando agli autorità di regolamentazione i quali poi pensano prendere provvedimenti e entrare in azione non si escludono quindi poi rilievi di sanzioni rilievi penali per gli amministratori eccetera comitati di revisione sono un po' ritardo vabbè sostanzialmente le società di grandi dimensioni quotate in borsa o comunque enti di interesse pubblico hanno generalmente un comitato di revisione questo comitato ha sostanzialmente il compito di verificare appunto che i soggetti che effettuano la revisione abbiano le caratteristiche necessarie per ricoprire il ruolo quindi siano indipendenti eccetera insomma una sorta di controllo del controllore per dirla breve tagliare un po' poi vi vedete le slide compensi non relative alla revisione allora l'articolo 4 dell'audit regulation ha introdotto quindi un limite massimo ai compensi per i servizi diversi dalla revisione svolti dai revisori perché tante volte il revisore è anche chartered accountant quindi magari svolge complementariamente all'attività di revisione anche altre attività allora il limite massimo è quello del 70% cioè sostanzialmente il revisore non può svolgere servizi diversi dalla revisione se il compenso per tali servizi supera il 70% dei compensi medi ricevuti dall'attività di revisione nei tre esercizi precedenti quindi sostanzialmente ha questa limitazione l'articolo 5 dell'audit regulation contiene anche una lista di servizi diversi da quelli di revisione che non possono essere sorniti alla società in cui si è stati nominati i revisori contabili sai che all'inizio avevamo parlato di compenso del revisore quindi deve includere anche eventuali servizi accessori forniti e che non sono propriamente legati alla revisione qui vengono elencati sostanzialmente i servizi che complementari che non può fornire alla società nella quale lui è già revisore le società quotate poi possono avere anche uno o più comitati di revisione e il ruolo di questo comitato è sostanzialmente il monitoraggio del processo di informativa finanziaria devono poi rendere conto al governance delle operazioni sostanzialmente operate quindi il risultato della revisione monitorare l'indipendenza del revisore quindi secondo quanto previsto dall'audit regulation quindi sostanzialmente deve essere un controllo sul controllore ma anche i membri che fanno parte di questi comitati devono comunque avere una devono avere delle competenze in materia di contabilità o revisione contabile meglio addirittura entrambe e il presidente del comitato di revisione deve essere ovviamente nominato dai membri del comitato o del consiglio di amministrazione Ascari Academy è partner di Uslo Web Radio per una formazione comoda indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e le earning di qualità da oggi anche sulla tua radio maggiori informazioni su www.ascari.academy buon ascolto di o' Grazie a tutti